Circa il mistero della impassibilità, Rabbi Avener mi ha raccontato quanto segue. Una volta un innamorato della dottrina segreta andò da un'anacoretta, desiderando essere accolto da lui come discepolo. Allora quegli gli disse, figlio mio, il tuo proposito è ammirevole, ma dimmi, possiedi tu la dote della impassibilità oppure no? Egli rispose, maestro, spiegami le tue parole. E quegli disse, figlio mio, se di due uomini uno ti loda e l'altro ti biasima, ai tuoi occhi, essi si equivalgono oppure no? Egli rispose, in verità io provo contentezza per le lodi e dolore per il biasimo, ma non sono permaloso o vendicativo. Allora il maestro gli disse, figlio mio, ritorna a casa, perché fino a che non avrai l'impassibilità e sarai sensibile al biasimo, non possederai la giusta disposizione per poter comunicare i tuoi pensieri a Dio.